numero 5 set di 4 porta sigarette in silicone con disegno camouflage l'articolo pesa soltanto 27 grammi design compatto stabile e robusto facile inserimento del pacchetto ottimo rapporto qualità prezzo trovi il link di questo articolo in descrizione numero 4 set di due custodie in silicone materiale resistente agli spruzzi d'acqua antibatterico il coperchio si apre automaticamente e si adatta a tutti i pacchetti di sigarette originale idea regalo trovi il link con il prezzo di questo prodotto in basso nella descrizione del video numero 3 porta sigarette in silicone bianco con simpatici baffi stampati l'articolo pesa solo 27 grammi all'interno è possibile inserire 20 sigarette ottimo rapporto qualità prezzo se ti interessa questo prodotto o vuoi sapere il suo prezzo clicca il link in descrizione numero 2 porta sigarette utilissimo per trasportare il pacchetto di sigarette il prodotto è in silicone di ottima qualità disponibile nel colore verde se vuoi conoscere il prezzo di questo prodotto clicca il link in descrizione numero 1 porta sigarette in silicone colorato marchio guru questo articolo misura come un pacchetto di sigarette standard disponibile nei colori grigio rosso blu nero simpatica idea regalo puoi vedere il prezzo di questo articolo cliccando nel link in descrizione